Ciao ragazzi, benvenuti nel nostro laboratorio. Qui è il nostro regno dove prendono forma tutti i nostri sogni e tutte le nostre preparazioni. È da qui che parte tutto quanto. Qui dove lavoriamo il pesce che arriva fresco, come ben sapete, nella nostra pescheria e viene lavorato immediatamente per avere una qualità strepitosa assieme a una garanzia di sicurezza assoluta. Tutto questo è Banshee e oggi vi voglio portare qui dentro, proprio qui appunto dove nasce tutto e farvi vedere alcune preparazioni dal vivo, da vicino, per capire meglio quella che è la nostra filosofia e dove vogliamo arrivare insieme con voi. Quindi andiamo a vedere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.